Il figlio di Martina Colombari, Achille Costacurta, torna alla ribalta suscitando polemiche sul suo comportamento sui social. L'irrequietezza che traspare dalle sue immagini e dai suoi post fa pensare che il giovane stia affrontando una fase di crisi personale. Le critiche non mancano nei confronti dei genitori Martina e Billy Costacurta, accusati di aver viziato il figlio e di non avergli insegnato a fronteggiare le sfide della vita. La recente apparizione di Achille con una sigaretta in mano e un testo musicale controverso ha riacceso il dibattito sulle sue scelte e sul suo stato emotivo. La vita del giovane sembra oscillare tra momenti di serenità e profonda inquietudine, mettendo a dura prova la sua capacità di gestire le emozioni e le pressioni esterne. La condivisione di contenuti provocatori sui social potrebbe essere un modo per esprimere il suo disagio interiore. È fondamentale che Achille riceva il supporto necessario per affrontare le difficoltà e costruire un futuro di indipendenza. La società e i media hanno un ruolo cruciale nel non stigmatizzare il suo percorso, ma nel promuovere una cultura di comprensione e aiuto. In conclusione, la ricerca di un equilibrio per Achille Costacurta è un percorso delicato che richiede sostegno e comprensione da parte di tutti.